Dato che abbiamo ricevuto molti messaggi chiedendoci se si può effettivamente pagare a rate con una post pay evolution, abbiamo deciso di creare questo video con la risposta a questo quesito. Vediamo quindi se si tratta di una possibilità effettiva. E' quindi possibile utilizzare una carta prepagata per l'addebito di un pagamento rateale? Purtroppo dobbiamo dare una risposta negativa a quanti avrebbero voluto poter pagare ratealmente un acquisto importante fatto online usando questo mezzo di pagamento. A tutt'oggi quasi nessuno emittente di prepagate consente di effettuare un pagamento rateale usando questa tipologia di carta di credito. Pur essendo spesso annoverata nella categoria delle carte di credito, una prepagata è un borsellino elettronico e consente di utilizzare solo i fondi presenti. Qualsiasi addebito può essere effettuato solo se la cifra corrispondente è già depositata sulla carta e deve essere fatto per intero. Questa carta infatti non è collegata a un conto corrente come accade per le normali carte di credito. In partire l'ordine di addebitare ratealmente un acquisto, cioè dopo la data in cui è stato effettuato, è una caratteristica dell'operatività tradizionale di un conto corrente o di una carta di credito tradizionale. Soltanto in alcuni casi rarissimi, che vedremo in seguito, è permesso addebitare una cifra in futuro rispetto al momento della spesa usando una prepagata. Quest'ultima deve essere provvista di codice IBAN, cioè essere assimilabile a un conto corrente. Occorre ricordare che, per evitare problemi, il giorno fissato per il pagamento è indispensabile assicurarsi di avere sulla carta la disponibilità dell'intero importo corrispondente alla rata prevista. Proprio negli ultimi tempi, alla luce dello sviluppo della vendita di prodotti di telefonia mobile, si è verificato un cambiamento nelle regole relative agli addebiti rateali su carte prepagate. Alcune compagnie telefoniche hanno consentito ai propri clienti di acquistare un telefono iPhone accettando il pagamento rateizzato su prepagate. Le aziende, proponendo questa modalità di pagamento, si sono assicurate una notevole distinzione dalle compagnie concorrenti. Contemporaneamente, hanno ottenuto il giudizio positivo di tutti coloro che hanno scelto di usare una prepagata, risparmiando sui costi di gestione. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo video.